Salve, benvenuti a questo breve video tutoriale che ha lo scopo di fornire alcune indicazioni ai coordinatori di classe e ai docenti in relazione alla pubblicazione e alla condivisione in bacheca dei documenti di programmazione di classe e di programmazione individuale per disciplina. Bisogna accedere ad Argo Didap tramite le proprie credenziali. Una volta entrati in Argo Didap bisogna attivare la funzione bacheca. Vediamo che in alto a destra, una volta che abbiamo fatto l'accesso, compare anche un numerino che ci avvisa che ci sono due comunicazioni destinate a noi. Possiamo cliccare su bacheca per leggerle ma in questo video tutoriale ci occupiamo della pubblicazione dei documenti, in particolare appunto delle programmazioni di classe, operazione compiuta dal coordinatore o delle programmazioni per materia disciplinari, pubblicazione a cura di ogni docente. Fatto l'accesso in bacheco mi compare una schermata bianca. Sulla sinistra abbiamo due voci, messaggi da leggere ci porterà soltanto display di lettura e gestione bacheca che ci consente di pubblicare documenti. I professori ordinari, diciamo così, che non hanno funzioni di staff, funzioni di direttori di dipartimento, possono soltanto pubblicare messaggi relativi alle proprie classi con destinatari, docenti, genitori e alunni. Gli altri invece, ripeto, i docenti di educazione fisica, di direttori di dipartimento e altre figure di staff, hanno la possibilità invece di indirizzare messaggi a tutto, a tutte le componenti di tutte le classi. Il professore che deve pubblicare un documento, supponiamo la programmazione di disciplina, deve cliccare su aggiungi, lasciando perdere gestione categorie, deve cliccare sul pulsante aggiungi. Cliccando sul pulsante aggiungi gli comparirà la schermata con tre schede successive. Una il dettaglio, la seconda, che è la scheda importante per allegare i documenti, e la terza quella per individuare i destinatari. Nella scheda dettaglio abbiamo la data di pubblicazione del documento, la possibilità di indicare la data fino alla quale il terminus adquem, diciamo, il documento dovrà essere visibile. Nel caso delle programmazioni di classe o delle programmazioni disciplinari o delle programmazioni di dipartimento, il termine verosimilmente deve essere impostato al 31 agosto dell'anno 2020, quindi per tutto quanto l'anno scolastico in corso. Nello spazio descrizione andremo a scrivere il messaggio, quindi una breve descrizione di quello che stiamo facendo. Ad esempio, se si tratta della programmazione disciplinare, scriveremo programmazione, programmazione annuale di latino. Bene, la categoria è già predisposta, quindi basta selezionarla. Troviamo in ordine alfabetico A, attività sportive, avvisi generici, certamina, convocazioni, dipartimenti programmazione e dipartimenti verbali riguardano i direttori di dipartimento e non gli altri insegnanti. Invece, ecco, qui già si vede un errore, la classe esce il giorno 27 settembre, l'errore 12 e 15 è un errore, che questa è una categoria che qualcuno ha creato per errore. Tuttavia, per quanto riguarda i docenti, bisogna spuntare o programmazioni inizio anno o programmazioni svolte, ma questo è il mese di giugno. Per adesso interessa la categoria programmazioni inizio anno, che è un fatto importante perché consente di tenere in ordine i documenti programmati, tutti raggruppati sotto la categoria programmazioni di inizio anno. Visibile vuol dire che questo messaggio è effettivamente visibile. Per ragione di opportunità potrebbe anche essere caricato, ma non reso visibile. La scheda numero 2, quindi dopo aver impostato la data di pubblicazione, la disponibilità del documento fino al 31 agosto, il titolo del documento, la categoria a cui il documento afferisce e appartiene e la visibilità, lasciando perdere url che non ci interessa, andiamo a mettere il documento vero e proprio. Quindi in questa schermata, cliccando a destra sul pulsante aggiungi, andremo a scegliere il file. Trattandosi di programmazione di latino, dovremmo prendere il documento Word o PDF o d'altra natura che contenga la nostra programmazione di latino. Col solido sistema della navigazione andremo a scegliere il documento che ci interessa. Qui per brevità prenderò un documento qualsiasi e quindi lo selezionerò e darò anche una descrizione del documento, ripetendo sostanzialmente quello che ho già scritto prima, cioè programmazione di latino quarta di o quinta di, quello che sia. Confermo, in questo modo il documento verrà caricato. Non lo abbiamo ancora pubblicato. Se mi accorgo di aver sbagliato, naturalmente, lo posso cancellare. Quindi clicco sulla X rossa per cancellare perché magari ho caricato un documento errato. Quindi cancello la riga e ripeto l'operazione. Aggiungi il documento, questa volta corretto. Quindi prenderò il documento corretto, ne prendiamo sempre uno casuale. Andiamo a riscrivere la definizione, programmazione di latino per la quinta di, questa volta supponiamo che sia il documento giusto, confermo, eventualmente posso anche aggiungere un altro documento allo stesso invio, una tabella di valutazione, una nota personale, una revisione. Quindi non un solo documento per ogni pubblicazione, ma anche due, tre, quattro, dieci documenti per quella pubblicazione. Infine, della cosa più importante, ma anche più semplice, individuare i destinatari. Ripeto che se i docenti appartengono a categorie speciali, diciamo, docenti che stanno facendo la pubblicazione, cioè i direttori di partimento, i professori di educazione fisica, il personale dello staff, l'animatore digitale, ha la possibilità di indirizzare questi suoi documenti a qualsivoglia classe e a qualsivoglia componente. Invece i professori, diciamo, ordinari, che non hanno incarichi particolari, troveranno qui elencate solo le proprie classi. Quindi possono indirizzare i loro documenti solo a docenti, genitori e alunni delle proprie classi. Supponiamo, in questo caso, che si tratta delle singole classi destinata la quinta D, in questo caso la nostra prova, quindi spunto quinta D. E se era anche la quinta E, quinta E. E una volta, dopo aver selezionato la classe, clicco sul tasto conferma. Naturalmente devo anche indicare chi deve essere reso visibile questo documento. Le tre componenti fondamentali sono genitori, alunni e docenti. Per quanto riguarda la programmazione disciplinare per materia, è chiaro che questo documento può interessare i genitori tutti, gli alunni tutti e, perché no, anche i docenti. In questo modo il documento è stato ben caricato, indirizzato, come leggiamo, alla classe quinta D e in particolare le componenti genitori, alunni e docenti. Potrei anche chiedere la presa visione, ma per non appesantire, insomma, il tutto, se il documento è necessario, se è necessario la presa visione perché il documento è rilevante, in tal caso spunto anche la presa visione, ma una programmazione generale di classe potrebbe anche, insomma, non avere un rilievo tale da poter imporre la presa di visione e quindi non lo spunto le tre caselle relative alla presa di visione. Dopodiché salvo e con questo il processo è concluso. Il mio documento, la mia programmazione è adesso visibile ai destinatari, insomma, a cui è stata inviata. Chiaramente io potrei anche, in effetti, accorgermi di aver commesso un errore, riprendo il mio documento, troverò la programmazione annuale di latino qui pubblicata e posso eliminarlo, cancellarlo. Quindi decido di cancellare completamente la mia pubblicazione oppure aprirlo e tornare sulla data di scadenza, sugli allegati, sui destinatari, modificando qualcuno di questi parametri. Dopo aver modificato eventualmente i parametri, clicco su salva e sono naturalmente di nuovo a posto. Se invece decido di cancellare tutto, allora seleziono la riga con la mia pubblicazione e cliccando sulla freccia a discesa troverò il menu cancella. In questo modo io posso cancellare il messaggio pubblicato. Bisogna tener conto che se però, per quanto riguarda, se abbiamo imposto la presa di visione e qualcuno ha preso già visione del documento, il documento non può più essere modificato o cancellato, ma si può soltanto nasconderlo dalla visualizzazione e quindi i successivi accessi da parte delle varie componenti non vedranno il documento, ma coloro che l'hanno già visto ovviamente hanno dato la presa di visione. Si ritengono avvisati su quel documento, però togliendolo dalla visualizzazione potrò pubblicare un nuovo documento corretto. Ecco perché la presa visione è da spuntare nel caso in cui effettivamente il documento sia rilevante o importante. Dunque, riassumendo, io per poter pubblicare un documento devo andare in gestione bacheca, cliccare su aggiungi, indicare il testo, diciamo, del messaggio, quindi programmazione di italiana, di italiana, indicare una data di scadenza al documento, selezionare una categoria senza crearne altre possibilmente. Quindi le categorie che interessano i docenti sono le programmazioni, inizio anno o fine anno naturalmente, e i verbali di consiglio di classe per i quali sarà fatto un tutoriale a parte. Dopodiché scelgo il documento da pubblicare, seleziono il mio file, pdf, word o quello che sia, scrivo una breve descrizione, ecco, programmazione di italiano, confermo e vado a selezionare nella terza scheda i destinatari. Quindi prendo la classe che mi interessa, la mia classe, tra quelle che mi sono proposte, in questo caso ancora per esempio la quinta D, confermo, seleziono i destinatari, genitori, alunni e docenti e salvo il tutto, per cui questo documento sarà visibile a genitori, alunni e docenti della classe quinta D. Dopodiché, se ho sbagliato, torno sulla mia riga, sulla riga del mio documento, lo seleziono e lo cancello. Vi ringrazio per l'attenzione.